Sono Irene e vivo a Aquila e il mio fidanzato, dopo che mi ha rubato tutto, mi ha tradito e mi ha detto che era tutta colpa mia. E questo è la mia storia. Accominiamo. Mi sono fidanzata con quest'uomo che sapevo non essere proprio un grande lavoratore, ma speravo che col tempo cambiasse. All'inizio ho dato la sua pigrizia per un'immaturità della sua età. Io ho sempre lavorato da quando avevo 14 anni, ho sempre fatto tanti sacrifici, ho avuto sempre una famiglia ben salda, con tanti valori. E anche la sua famiglia lo era. Lui giocava sempre alla play, mentre io lavoravo a destra e a manca. Un giorno la mia famiglia decide di trasferirsi in Toscana e io voglio seguirla perché voglio migliorare il mio futuro. E dopo tanto parlare, riesco finalmente a convincerlo a venire con me. Inizialmente riusciamo a farlo assumere in una ditta, ma dura solo due settimane, perché ovviamente il titolare non è contento del suo lavoro, visto che la maggior parte del tempo lo passava sul telefono. Così io continuo a lavorare e porto avanti il nostro rapporto. Decidiamo di andare a convivere, perché prima eravamo appoggiati dai miei genitori, ma tutto viene pagato assolutamente da me. Lui non sembra essere interessato a trovare un nuovo lavoro. Così, con tanti sacrifici, gli trovo un lavoro che è molto dignitoso. Lavoro in un supermercato molto noto. E lì diciamo, io spero che lui possa cambiare, ma in realtà lui non cambia, anche perché ogni volta che usciamo, tutte le utenze le pago sempre io. All'inizio lui inizia a frequentare un gruppo di persone e mi ci porta. Ma questo dura solamente un paio di volte, visto che poi mi dice che escono solo uomini e che io non sono ben accetta. Così inizia ad escludermi. Successivamente mi ammalo e prendo il covid. Così gli dico che è il caso che lui vada dal padre e gli do la mia macchina, poiché avevamo solo una macchina ed era la mia. In quel frangente lui non è mai venuto a portarmi neanche un pezzo di pane, né interessarsi di come stavo. Fortunatamente avevo i miei vicini di casa, il mio proprietario di casa e il mio più grande amico del cuore, che hanno fatto di tutto per farmi stare bene e non mi hanno fatto mancare mai niente. Dopo due settimane che sto bene, lo chiamo e gli dico che voglio festeggiare insieme a lui la mia guarigione, portandolo a cena fuori. E lui, indovinate, mi dice che quella sera aveva organizzato un aperitivo con i ragazzi e che non poteva venire. Ovviamente ero delusa, perché erano due settimane che mi mancava. E così per dispetto io dico che io uscirò con la mia amica, ma lui non se ne fa. Poiché gli serviva la macchina, mi avrebbe accompagnato e mi sarebbe venuto a prendere di nuovo. Io con la serata ero molto triste e la mia amica se ne accorse, ma non dissi niente. La mia migliore amica. Non dissi niente. Mi tieni tutto dentro. Il giorno seguente dovevamo uscire con una mia amica e prima dovevamo portarla al supermercato. Andiamo al supermercato, scendono loro due e gli dico che aspetto in macchina. Lui dimentica il cellulare e io faccio una cosa che non ho mai fatto. Guardo quel cellulare e rimango pietrificata. Trovo una sua relazione e tutte le conversazioni con un video che ritrae lui e la sua collega di lavoro, molto più grande di lei, sposata con due figli, in intimità. Ripongo il telefono, non prima però di aver fatto tutti gli screenshot e averli mandati sul mio contatto. Tornano in macchina e gli dico che dobbiamo parlare. Lui mi guarda e guarda il cellulare. Ma io non faccio trasparire un'emozione. Mi dico tranquillo, lo voglio dirti solo una cosa. Così lui si rasserina. Accompagniamo la mia amica a casa e gli dico di andare in un posto appartato. Così lo guardo e gli dico, lo vuoi spiegare perché lui prima nega e quando gli faccio vedere tutti gli screenshot che ho fatto, mi dice che la colpa è stata mia. Sì. La colpa è stata mia perché quando lavoravo troppo mi trascuravo. Io dovevo sapere che a lui gli piacevano le minigonne, gli piacevano gli abiti scollati, una donna sempre truccata. Ma il problema è che mentre a lui piacevano queste cose, io correvo dalla mattina alla sera per guadagnare i soldi, per mantenerlo. Non ho parole. La verità, io l'avrei anche perdonato, perché non volevo buttare nove anni di relazione al vento. Così gli spiegò che se lui non fosse stato innamorato io l'avrei perdonato. E ovviamente lui mi dice che non era così. Ma io avevo già in mente la mia vendita con quella donna. L'indomani siamo a casa e la sera dovevamo uscire. Io decido di uscire solo con le mie amiche e lui esce solo con i suoi amici. La mia migliore amica si accorge di tutto e così gli confido tutto quello che era successo. Lei lo chiama e gli dice che non mi merita. Nel frattempo io decido di isolarmi, vado a farmi una passeggiata, faccio un giro con la macchina. Mi chiama il mio migliore amico. Gli dico che sono giù, non gli spiego che cosa è successo, ma non riesco a bersare una lacrima. Cerco di capire perché. Mi sento come vuoto. Lui alla fine mi convince a incontrarci e non appena lui mi abbraccia, io piango, come una bambina. Un giorno seguente vado al supermercato per incontrare quella donna e gli chiedo se fosse innamorata del mio fidanzato. Lei mi dice candidamente che non lo è, che per lei che quest'uomo è solo uno sfizio, perché il suo marito lavora fuori, lei si sentiva sola. Ho cercato di aggredirla, ma il mio migliore amico mi ha trattenuto e mi ha detto che non valeva la pena sborcarsi le mani con due persone del genere. Così siamo andati via. Da quel momento siamo tornati a casa, io e il mio fidanzato, e ovviamente l'ho cacciato di casa, e lo volevo riaccompagnare dal padre. Ma né il padre né il suo fratello l'hanno voluto, perché hanno detto che non è la persona che ha i valori della loro famiglia e che sono disgustati dal suo comportamento. Anche il fratello mi chiamò successivamente per chiedere scusa del comportamento del fratello, perché loro mi volevano molto bene e sapevano che persona ero. Io lo lascio, non voglio sapere più niente di lui, anche perché scopro che lui mi ha preso tanti soldi, mi ha rubato i soldi sulla carta, e quando ho bloccato la carta lui si è fatto fare un versamento dove mi ha prosciugato un conto di risparmi che avevo fatto da quando avevo 14 anni, lasciandomi con soli 12 euro. Ad oggi c'è un avvocato, e sto cercando di riavere qualcosa, ma non ho visto neanche un euro. Oggi sapete che cosa c'è? C'è che sono fidanzata col mio miglior amico, l'unico uomo che mi ha sempre sostenuto e voluto bene. Una persona onesta, una persona sincera che mi ha sempre apprezzato. Faccio questo video per dire che a volte è inutile insistere con delle persone che non vogliono creare un futuro con noi, che non vogliono creare un progetto con noi, che non si danno da fare, le persone che vogliono essere mantenute, che non mi vogliono far star bene. Se lui mi ha tradito, la colpa non è mia, perché mentre lui si divertiva, io ero intenta a sudare, a faticare, per noi, cosa che avrebbe dovuto fare anche lui. Molto spesso non dobbiamo pensare di affidarci completamente a delle persone che sono così cattive, da derubarci di tutto, della nostra stima, della nostra dignità, del nostro tempo, dei nostri soldi, dei nostri sacrifici. Buona vita. Sono una narratrice e questa storia fa parte del mio format che si chiama Eroine Invisibili, che ho creato il primo giugno 2023, dove racconto storie di donne con fatti realmente successi, ma che per questione di privacy abbiamo scelto di cambiare con nome di fantasia, il nome delle donne e le città. Le donne hanno dato solo a me l'esclusiva per poter raccontare la loro vita e la loro storia. Accominciamo.